No, perché sembrava comunque una cosa già... era già stato definito tutto. Il Partito Democratico l'ha chiesto, il nuovo centrodestra l'ha confermato e gli altri gli sono andati dietro e noi siamo rimasti lì a far capire che la posizione delle minoranze, come abbiamo detto in commissione, le minoranze non le opposizioni, questo avevamo fatto passare in commissione, la posizione delle minoranze era quella di discutere gli emendamenti in modo serio e cercare di capire anche insieme dove si poteva arrivare, loro hanno fretta, vogliono chiudere, vogliono chiudere il prima possibile e di conseguenza hanno deciso, logicamente tra di loro, se la sono cantata e se la sono suonata, hanno deciso tra di loro di portare in aula il provvedimento.